Allora questa marzelletta te la dedico a te. C'è una figliola che sta male ma sta male e lì viene la febbre. Gli viene la febbre, gli viene i brividi. Allora gli fai su babbo, chiami il dottore, chiami il dottore e digli che ho la febbre. Allora il babbo chiami il dottore, che gli fa? Mi dica, senta la mia figliola ha la febbre ma è alta? Ma sarà un metro e cinquanta? No, no, no.